Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi Roberto Fineschi, studioso e interprete di Marx, parte del progetto della Mega 2, che è un progetto di studio e lettura di Marx che va avanti da anni e di cui è uno degli esponenti italiani. Ciao Roberto e con lui oggi vorrei fare un discorso molto ampio che riguarda la figura di Marx e cioè capirne, approfondirne l'attualità e cioè voglio fare insomma delle domande appunto di carattere ampio per chiedere a Roberto che sta approfondendo, sta studiando il tema del capitale, proprio per capire l'attualità di questo testo. E quindi vado subito al centro delle cose, non mi perdo in chiacchiere. Roberto, in che modo il capitale ad esempio ci può aiutare a comprendere un fenomeno sociale come il conflitto, appunto il conflitto sociale tra capitale e lavoro? A te. Sì, buonasera, buonasera, grazie dell'invito, mi fa piacere partecipare come sempre a questo tipo di discussioni. Dunque, il tema del conflitto è un tema centrale non solo nel capitale ma nella realtà, chiaramente e non solo nella società contemporanea. Attraverso tutta la storia, il conflitto, secondo alcuni addirittura il motore stesso del cambiamento storico, ma comunque anche non considerandolo il motore, è una delle dimensioni che emerge in tutte le epoche storiche. E quindi una teoria sociale, diciamo, che si rispetti non può, non solo non prenderlo sul serio, ma proporre delle spiegazioni. Ora, il capitale, da questo punto di vista, rispetto ad altre teorie, ha molte frecce al proprio arco. Perché, diciamo, prima di entrare nel merito, facendo per esempio un paragone con, che ne so, le teorie mainstream che si studiano a microeconomia, a macroeconomia, praticamente sono teorie che non spiegano il conflitto, ma, oltre a non spiegarlo, dicono che se tante volte ci fosse, perché appunto c'è continuamente, è sbagliato, non ci dovrebbe essere. E quindi, diciamo, molte di queste teorie non solo non spiegano il fenomeno, ma addirittura, diciamo, vorrebbero prescrivere alla realtà come dovrebbe essere. Cioè, spiegano la realtà perché sbaglia ad essere come è. Questo, ovviamente, fa sorridere molto, se non fosse che sono teorie che su cui si fanno esami, insomma, si costringono persone a laurearsi. Quando il problema, invece, è spiegare che cos'è il conflitto, perché ci sia il punto di partenza, insomma. Ora Marx non si tira indietro, è evidentissimo, insomma, che il conflitto è una dimensione centrale della vita umana, e quindi cerca di spiegarlo. La storia del capitale è un sofisticato sistema che, come dire, non prevede il conflitto come accidentale, ma che si struttura proprio sull'essenzialità del conflitto nella dinamica sociale. E come fa, insomma, il discorso, chiaramente, analiticamente sarebbe molto complicato, però cercando di ridurlo in termini, insomma, più immediati, diciamo, Marx non è che rifiuta, però, diciamo, non accetta una banale definizione di essere umano in generale, come soggetto storico, ma parte dal presupposto che in ogni epoca, in particolare quella capitalistica, gli esseri umani non sono attori in quanto tali, ma sono attori in quanto organizzati in forze sociali, sostanzialmente. E quindi, in quanto organizzati in forze sociali, si trovano, come dire... Scusami, quindi, per intenderci, questo per spiegarlo anche bene a chi ci ascolta, quindi lui non intende l'essere umano come singolo, ma come parte di un gruppo inserito, quindi, in un contesto sociale. Sì, diciamo, allora, non è che ovviamente nega l'esistenza dell'essere umano come ente biologico, come comune, diciamo, qualità dei diversi esseri umani, però non è lui il soggetto storico, questo è il punto. O quantomeno non lo è per ora. Perché? Perché secondo lui, come dire, i diversi esseri umani si organizzano, si funzionalizzano in una funzione, si inquadrano in una funzione determinata in base al ruolo che hanno nella riproduzione sociale. Cioè, secondo Marx, il modo in cui funziona la riproduzione sociale fa sì che esistano funzioni diverse realizzate da esseri umani diversi che però in relazione alla funzione che hanno si strutturano spesso in maniera conflittuale. Vale a dire che questi diversi gruppi, proprio nella loro prassi sociale, sono nel realizzarla automaticamente in conflitto con altri gruppi. Ora, questo ho detto molto in due parole, la lotta di classe, però non ho cercato di esprimerla in maniera un po' più sofisticata. Ma qual è il punto? Il punto è che secondo Marx, gli esseri umani si caratterizzano per far parte del processo, insomma, come elementi del processo lavorativo, cioè quello che secondo lui è caratterizzante dell'uomo è la modalità tipica di interazione della natura che è il lavoro. Però il processo lavorativo non è solo il lavoro, sono i mezzi di lavoro, gli oggetti di lavoro, i cosiddetti mezzi di produzione. E in base alla modalità in cui tutti questi elementi si combinano, si differenziano le diverse epoche della produzione e si caratterizzano le classi sociali. Ora, nel modo di produzione capitalistico, la forza lavoro priva dei mezzi di produzione si trova caratterizzata come classe, classe lavoratrice salariata, e i possessori dei mezzi di produzione come capitalisti dall'altra parte. Questo è il punto di partenza dal quale poi, diciamo, si instaurano le dinamiche sociali, in cui questi due gruppi hanno interessi conflittuali. e, diciamo, il conflitto primario consiste proprio nella, non solo spartizione, ma anche decisione di come, di cosa produrre, di come produrre, di investire, e alla fine su come suddividersi, diciamo, la torta prodotta. Il capitale mira la valorizzazione che, secondo Marx, insomma, è espropriazione di lavoro non pagato e i lavoratori, appunto, solo in parte ricevono quello che loro stessano prodotto. Ma non è solo questo, non solo in parte ricevono, ma in nessuna misura decidono che cosa produrre, quando produrre, dove allocare le risorse. Questo è tutto nelle mani del capitale, diciamo. E quindi, di nuovo, ciascuna delle due parti, cercando di, come dire, affermare le proprie rivendicazioni, automaticamente è in conflitto con l'altra. E quindi, come dire, non è che vivono tranquilli e poi a un certo punto a uno gli viene luzzolo di fare chissà cosa e allora nasce un conflitto. Nella teoria del capitale il conflitto è costitutivo della realtà, perché le classi sociali, proprio nel loro agire normale, nella loro funzionalità effettiva, confliggono. E quindi, diciamo, questo però Marx lo identifica, e tu questo un po' l'hai già introdotto come elemento, come caratteristico in realtà di ogni epoca storica, nel senso che poi Marx riscontra questo tipo di conflittualità anche nelle epoche precedenti. Ora, lui non ha mai in realtà approfondito veramente, se non erro, questo elemento, però qui parla proprio di una conflittualità anche medievale, quella tra borghesia, aristocrazia feudale, per intenderci, e via di lì a scendere, cioè nel senso la società schiavista, il modello asiatico, e vi dicendo, quindi lui però riscontra una conflittualità in tutti i modelli precedenti, oppure questa è una caratteristica, diciamo, più centrale nel modello capitalista, nella fase capitalista di produzione? Sì, no, no, allora, prima di venire alla sua domanda, volevo solo aggiungere una piccola nota a quello che già stavo dicendo. Ora, la conflittualità anche nel modo di produzione capitalistico, oltre alla conflittualità forte, diciamo, tra capitale e lavoro, esistono tanti altri tipi di conflittualità, per esempio, il capitale non è unico, non è unitario, quindi diversi capitalisti sono in concorrenza fra di sé, quindi in conflitto, il conflitto quindi è anche intercapitalistico, ma non solo, purtroppo anche dalla parte del lavoro, abili politiche reazionarie possono, come dire, mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, creare una situazione operaia, creare condizioni, chiaramente, che poi vanno tutto a vantaggio del capitale, ma che poi nella pratica si concretizzano come conflitti, come guerre tra poveri, tra virgolette, quindi diciamo, dal conflitto fondamentale nascono anche conflitti, diciamo, non fondamentali come quello, ma altrettanto decisivi nelle dinamiche sociali, voglio dire, in questo momento in cui assistiamo, diciamo, a una rinegoziazione mondiale delle spere di influenza, è un conflitto in gran parte intercapitalistico, in cui le classi subalterne sono e se stesse in conflitto, ma al traino di un conflitto più grande. Per venire alla tua domanda, che non voglio certe iludere, la idea di Marx è che questo meccanismo della conflittualità di classe attraversi tutta la storia, questo non c'è il minimo dubbio. Chiaramente, nella doppia dinamica, sia, diciamo, fondamentale di classe, ma anche interclassista. Qui, come accennavi, Marx, diciamo, non è che purtroppo abbia approfondito più di tanto, anche perché, diciamo, il progetto era talmente ampio da essere, come dire, idealizzabile, ma anche per un altro motivo che sta emergendo sempre di più. Chiaramente, la limitazione delle conoscenze del tempo, no? Anche, per esempio, nell'origine della famiglia di Engels, che in qualche modo ha tentato di estendere l'arco temporale al di là del capitale, insomma, nel libro di Engels, che ne so, dei popoli mesopotamici, della Cina, dell'India, delle popolazioni cosiddette precolombiane, non si dice niente, si dice ben poco, insomma, ma semplicemente perché ancora non lo sapevano, insomma, ecco, Quindi, per esempio, tutta quell'analisi sull'origine tribale ed anche delle gentes romane, di dicendo, elude tutto il discorso dell'economia palaziale di tipo mesopotamico, no? Quindi, oppure ancora di più, insomma, dei sistemi orientali praticamente poco conosciuti o niente, se non già nella forma semicolonizzata dopo l'espansione coloniale, indonesi, francesi, eccetera. Quindi, diciamo, qui c'è un, come dire, c'è molto margine per la ricerca contemporanea per approfondire molto di più tutti i aspetti. Però l'idea di fondo è che ci sia un conflitto fondamentale tra, diciamo, che ci sia nell'estrazione di plus lavoro il nocciolo fondamentale per cui qualcuno lavora e qualcuno non lavora e chi non lavora si avvantaggia di questo e poi prende le decisioni sulla gestione del processo complessivo in forme diverse esiste chiaramente secondo Marx in tutte le epoche precedenti. Ora tu facevi l'esempio di un tipo di conflitto medievale, però lì c'è conflitto ancora più fondamentale con il servo della gleba, insomma, da cui si estrae la maggior parte del surplus al tempo, no? Quindi, e poi chiaramente tutta la storia che studiamo nei libri sono conflitti interclassisti tra Ghibellini e Guelpi, Alla fine sono tutti medi, grandi mercanti o banchieri, insomma, no? E poche scene di lotta di classe dura, i cionpi o il conflitto, diciamo, con il lavoro. Quindi questa trasversalità, però, esiste allora, esisteva anche nel tempo di Roma, no? Al di là dello schiavo, ma anche il piccolo proprietario che poi appunto diventa schiavo, ma anche lì poi il conflitto tra cavalieri, E senatori, diverse funzioni, grandi proprietari terrieri, che ne so, gli appaltatori, eccetera, eccetera. Ecco, questa doppia dinamica del conflitto forte di classe interclassista è l'anima dei diversi modi di produzione. In questo senso, ora, si può criticare per diecimila cose, però, insomma, lui, voglio dire, la realtà la prende sul serio, ecco, diciamo, anche a un superficiale studente di storia, un superficiale osservatore del mondo contemporaneo, considerare la conflittualità marginale o frizionale o accessoria, insomma, non fa veramente soffrire, anzi, purtroppo, questo è il momento di una conflittualità tale che, chiaramente, la teoria deve affrontare la sua. Se non affronta questa sfida non è una vera teoria sociale. Ma, però, la domanda che ti faccio è che tu hai sollevato una questione importante, cioè quella delle mancanze di conoscenze, no? Cioè, nel senso, effettivamente era difficile, ad esempio, poi andare a parlare dell'economia, delle prime fasi storiche, appunto, facevi l'esempio della Mesopotamia e via dicendo. Ecco, ma questo non costituisce un limite teorico alla possibile applicazione della teoria, cioè, più che alla possibile applicazione, è l'applicazione per lo studio. Come facciamo ad usare le categorie di Marx, che sono molto caratteristiche dell'epoca in cui vengono prodotte, no? Che ci parlano di una società che si sta avviando all'industrializzazione, appunto, dell'Inghilterra della fase industriale, cioè, di quell'Inghilterra lì. Ecco, come facciamo poi a usare questo strumento per poter comprendere, ad esempio, non so, le società amazzoniche? Beh, in realtà, è chiaramente una sfida per gli studiosi. Allora, il discorso, dal mio punto di vista, insomma, se posso suggerire come fare io, insomma, cosa dovrò fare. Allora, come dire, la teoria del modo di rivoluzione capitalistica è una teoria di un periodo determinato della riproduzione umana nella natura. Ora, qui, chiaramente, ci sono tutta una serie di elementi specifici che la caratterizzano e che quindi, diciamo, non sono per calco esportabili in altri modi di produzione, no, insomma, il plus valore, il valore, il plus valore, la rendita tipicamente capitalistica, eccetera. Però, dall'altra parte, emergono delle categorie di cui queste sono forme specifiche, cioè, voglio dire, ogni modo di produzione avrà per forza un sistema produttivo che dovrà avere, come dire, una produzione minima per la sopravvivenza, una dimensione di un surplus che servirà per una serie di funzioni non immediatamente legate alla riproduzione, oppure avrà o non avrà un sistema di distribuzione legato allo scambio, avrà o non avrà, diciamo, per contrasto, diciamo, si possono, avranno un sistema di riproduzione sociale, no? avrà o meno un sistema di accumulazione. Qui, come dire, l'individuare queste categorie generali ovviamente non è che mi dà automaticamente una teoria del modo di produzione sumerico, che ne so, però mi permette di andare a vedere in questi sistemi come funzionano questi meccanismi e quindi, come dire, mi danno una sorta di setaccio in base al quale io posso ricordare. Ogni periodo storico, ogni epoca della riproduzione ha la sua dinamica specifica, però in questa dinamica specifica ci devono rientrare in una serie di meccanismi che non ci possono non essere e che possiamo individuare anche grazie al capitale. Questi li posso usare per investigare questi altri sistemi, per esempio, per avere se hanno delle dinamiche anche interne che portano al superamento, diciamo, se questo sistema non è circolare ma ha delle tendenze, quindi, come dire, ha in sé il germe della propria costruzione, no? Come un sistema della rende, dell'indebisamento fondiario romano che poi alla fine crea i latifonde che poi alla fine mina le bagi del sistema atteso? Cioè, ecco, con questo tipo di domande si possono andare a tentare di ricostruire insomma questo sistema. Quindi, se ho inteso bene quello che tu dici, in realtà il punto è che quello è un metodo che ti permette di identificare degli strumenti, degli elementi ricorrenti in tutte le comunità umane, perché poi la produzione è chiaramente un elemento che ricorre in tutte le società umane, anche banalmente per avere il cibo e questo è un elemento che necessariamente noi possiamo analizzare all'interno di cui appunto possiamo poi andare a cercare la presenza o meno di alcuni elementi. Cioè, è da intendere proprio come metodo di studio. Sì, diciamo, sì, non solo come metodo direi, e poi alla fine è un'ontologia sociale in qualche modo, cioè non è solo un metodo, ma perché le società certe dimensioni strutturali non possono non avercele e quindi, diciamo, individuarle ti permette poi di ricercarle in tutte. Poi, sicuramente, alcune ne hanno di più, alcune di meno, alcune hanno una dinamica specifica di sviluppo, però sapendo che queste cose ci sono posso andare a cercare. Senti, Roberto, cambiando invece parzialmente discorso, ma invece per quanto, come ci potrebbe aiutare allora questa teoria a comprendere l'attuale fase in atto nel mondo, l'ascesa del mondo multipolare, la comparsa di nuovi attori, la presenza di un attore semi-egemone, egemone o sfidante come la Cina che si richiama almeno teoricamente, poi insomma non entro nel merito se lo fanno bene o male di proposito, se è strumentale, al socialismo come ideale diciamo di aspirazione, cioè in che modo ci aiuta poi a comprendere le variazioni in atto nel mondo odierno un libro come il Capitale? Allora, domandona complessa, insomma io farò del mio meglio. Il punto chiave qua è capire come dire che la teoria del Capitale si sviluppa a diversi livelli di astrazione, cioè come per esempio insomma nell'impianto elettrico di casa mia sicuramente sono in atto leggi fisico-chimiche che permettono che funzioni così non significa che insomma che studiando la fisica teorica io sia in grado di farmi l'impianto elettrico. Ora questa è un po' una sciocchezza però per esprimere diciamo la distanza tra una teoria generale e poi le capacità applicative di questa teoria. La teoria del Capitale di Marx è molto vicina alla fisica teorica e non all'impianto elettrico insomma ha una dimensione astratta abbastanza forte e quindi in che misura ci aiuta a capire proprio le dinamiche concrete? Ci aiuta a capirle nel senso che ci dà tutte le definizioni di base relativamente a che cosa? Che cosa significa capitale? A che cosa significa modo di produzione capitalistico come sistema riproduttivo? E quindi ci dovranno necessariamente essere dei meccanismi di valorizzazione di incremento della produttività del lavoro di automazione dei processi produttivi di distribuzione eccetera eccetera che come dire faranno da cornice a qualunque azione storico-politica possibile questo automaticamente ovviamente non ci dà né la guerra né nel conflitto egemonico tra potenze in alto però ci danno il contesto una spiegazione del contesto in cui questi fenomeni si realizzano ora in questo senso i passaggi diciamo intermedi per raggiungere questi livelli più concreti da quell'astratto sono chiaramente campo di ricerca insomma sta come dire a noi che ci interessiamo di queste questioni scendere a un livello di astrazione più basso qui però secondo me come dire ci sono indicazioni un po' più precise che si possono tirar fuori la principale è che nella teoria del capitale Marx come accennavo già prima indica un modello che non è che si ripete ciclicamente ma che ha una tendenzialità cioè che proprio per come è fatto sviluppa delle leggi che a un certo punto entrano in contraddizione con se stesse in particolare che cosa sviluppa sviluppa una produttività del lavoro impressionante mai esistita in precedenza della storia che potenzialmente mette l'umanità in condizioni di superare il bisogno una cosa che per tutta la storia l'umanità è stato alla fine il problema fondamentale il problema della scarsità che quindi da una parte potenzialmente liberare l'umanità da questa ossessione ma dall'altra la vincola alla valorizzazione del capitale cioè insomma anche se ci sono le risorse per darlo a mangiare a tutti se questi tutti non andano a pagare non si investe perché l'investimento non è remunerativo sostanzialmente e quindi in questo senso entra in contraddizione con se stesso cioè crea un'infinità produttiva ma non la può utilizzare perché confligge con la legge di automobilizzazione del capitale ora Marx dice anche quindi a un certo punto il sistema secondo Marx entra talmente in contraddizione che un investimento reale di valorizzazione diventa per i capitali che hanno raggiunto questo sviluppo impossibile d'altra parte i processi da automazione producono disoccupazione di massa perché in teoria fanno tutte le macchine detto insomma paradossalmente probabilmente questo fa crollare la domanda aggregata diciamo di beni e quindi di nuovo incarta il meccanismo in questa in questa sua problematica ora questo processo esiste un no della società attuale insomma se diciamo teniamo fede all'interpretazione per cui dagli anni 70 diciamo è iniziato una lunga crisi di isola produzione di sotto investimento che poi ha portato a questa migrazione infinita verso la finanza si può dire che questo è il contesto generale in cui ci muoviamo adesso in un contesto del genere quei paesi diciamo che più hanno che più sono soggetti perché arrivati prima e più hanno diciamo seguito questa tendenza si trovano drammaticamente in crisi di valorizzazione reale e incapaci di investimenti effettivi produttivi quindi di una migrazione statale di fondi verso le bolle finanziarie e quindi può assomigliare a degli scenari che abbiamo visto ma dall'altro appunto sviluppano poi posizioni debitorie verso poi chi produce davvero chi è ancora diciamo in questo processo di industrializzazione è ancora per la via o addirittura chi non è ancora iniziato per niente e quindi come dire questo capitalismo che io definisco crepuscolare implica delle dinamiche di rapina sostanzialmente cioè in cui dato che non riesci più a valorizzarti effettivamente la tua valorizzazione avviene per vari tipi di rendita che possono essere la cresta sull'emissione del dollaro come insomma moneta dominante ma può essere anche semplicemente la costrizione fisica a comprare da un membici che da un altro insomma l'esempio del gas russo gas americano è un buon esempio perché noi dobbiamo comprare gas americano perché sennò ci bombardano semplicemente non è che c'è un motivo voglio dire non è neanche una barzelletta perché ai tedeschi gli hanno bombardato gas d'oggi certo no no è semplicemente gratico e quindi a questo punto che cosa succede succede che la dinamica strettamente economica che Marx prevede in questa configurazione generale a partire da questo modello noi possiamo interpretare il Presidente dicendo che i paesi occidentali tra virgolette che si trovano in questa configurazione sono già nella posizione di agire diciamo politicamente militarmente per valorizzare il capitale per valorizzare il capitale tra virgolette dove però valorizzazione non è più la valorizzazione reale produttiva che passa attraverso la produzione di me c'è la loro vendita eccetera eccetera questa è una cosa che loro non sono più in grado di fare perché sono arrivati in questa fase diciamo ma che riescono comunque a ottenere attraverso la forza militarmente cercando di costringere il resto del mondo a sottostare a questa dinamica ora questo chiaramente per esempio tutta questa seconda parte diciamo è farina del mio sacco tra virgolette cioè io alla luce di questo modello generale cerco di utilizzarlo per interpretare le dinamiche corrette per fare un esempio di come si può fare questa cosa senti Roberto ti faccio un'ultima domanda che in parte esce da Marx ma secondo me è interessante per chi ci ascolta perché è un argomento che qui su Ottolina trattiamo spesso e anche a me personalmente capita spesso di studiare questo ambito la teoria del sistema mondo che in qualche modo si richiama al modello Nova Allerstein e quant'altro si richiamano a Marx però poi ne fanno in realtà un uso che un marxista ortodosso direbbe improprio perché è chiaro che si cambiano tutta una serie di categorie si inserisce ad esempio c'è la questione del lavoro domestico che viene usato proprio per analizzare i modelli di produzione pre-capitalistici quindi le società familiari claniche tribali e via dicendo ecco che valutazione hai tu di queste tre questo è più un parere personale che ti chiedo cioè nel senso che pensi che effettivamente questo sia uno sviluppo in qualche modo coerente con quello che era il filone marxista degli studi marxisti oppure pensi che effettivamente si sia distanziato troppo cioè c'è una qualche utilità per chi studia oggi Marx in quell'ambito oppure è un'altra famiglia mettiamola così allora qui diciamo varie questioni ovviamente innanzitutto non è che c'è un marxismo o un marxista anche qui potremmo scatenare una guerra mondiale marxista tra tra le diverse correnti che chiaramente rivendicherebbero una maggiore o minore affinità quindi il discorso in questo punto di vista è difficile dire quando però restamente a me non è mai dispiaciuta come 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 prospettiva perché secondo me ha messo bene in evidenza rapporti sistemici che non sempre diciamo venivano sviluppati da alcuni marxisti almeno e che Marx non era giunto a sviluppare questo è il punto diciamo nel piano originario di Marx era previsto un libro sul commercio internazionale sul mercato mondiale tutto uno sviluppo che Marx non ha non ha scritto ma che oltretutto anche se lo avesse scritto sarebbe stato da riscrivere perché questa fase diciamo più concreta ovviamente avrebbe potuto scriverla all'altezza della sua epoca ma lo sviluppo ulteriore diciamo che ha avuto le dinamiche reali del capitale nel secolo successivo hanno un po' rimescolato le carte pensare insomma al livello di alla grandezza al dominio che certi capitali insomma ormai esercito a livello mondiale insomma chiaramente era forse intuibile però poi nella sua dinamica concreta difficilmente analizzata quindi da questo punto di vista non mi sento di sollevare una conflittualità il punto è riannodarsi e vedere come all'attività del capitale soprattutto cercando di riprendere l'ultima parte del capitale quella dedicata al credit capitale fittizio che è sicuramente quella meno più sacrificata in gran parte dell'interpretazione tradizionale anche soprattutto da parte degli economisti diciamo duri tra virgolette che si sono occupati di Marx che soprattutto hanno parlato di valore lavoro e trasformazione e non tenendo nella giusta considerazione invece l'idea di Marx che questa cosa andava a svilupparsi nel credit capitale fittizio e quindi come dire nelle dinamiche fittizie di accumulazione fittizia reale e quindi poi la possibile espansione del discorso a dinamiche più attuali tra virgolette diciamo secondo me è un dialogo produttivo ecco un dialogo che sicuramente può portare dei frutti chiaramente da un punto di vista di Marx è centrale la questione della valorizzazione questa diciamo perdere di vista il problema della valorizzazione anche in ultima istanza come problema che diciamo non arriva immediatamente ma arriva immediatamente attraverso 55.000 mediazioni però è lì il nocciolo perché se no il rischio ecco questo è il rischio insomma di ridurre il discorso a geopolitica a sfere di influenza a decisioni dei decisori come ha detto sovrastrutture sì ecco insomma di perdere un po' il legame invece quel discorso che cercavo di far prima è il tentativo di connettere anche la situazione attuale a una crisi profonda di valorizzazione del capitale che in qualche modo tenta di ovviare alla crisi strutturale di valorizzazione come con la bolla finanziaria con l'espansionismo con il dominio militare con l'imposizione di condizioni antieconomiche no questo per esempio è un gran tema no sembra la prospettiva degli Stati Uniti sia prosciugare l'Europa insomma la loro prospettiva di valorizzazione è quella di nuovo non è una vera valorizzazione la valorizzazione che non è come dire non è la stessa del dopoguerra no in cui l'investimento non è produttivo non è produttivo è vampiresca in qualche modo no non c'è una produzione tu stai risucchiando semplicemente ricchezza prodotta altrove diciamo è comunque vampiresca perché l'estrazione di più di valore è comunque che vale a presto lavoro diciamo nella versione tradizionale un po' di sangue per continuare a fare qualcosa glielo lasciamo invece in questa versione purtroppo si va verso l'uccisione diciamo della vittima della vittima e che poi diventa un autogol sistemico però il sistema non riesce a uscire questo il legame forte con la teoria di valorizzazione va bene io ti ringrazio è stata una chiacchierata breve ma intensa e insomma è stata in realtà molto appassionante perché sei andato a chiarire alcuni alcuni aspetti teorici che appunto spesso noi ritocchiamo però è interessante poi confrontarsi su queste tematiche qui io ringrazio gli Ottoliner che ci hanno seguito ringrazio Roberto ricordo che Roberto sarà presente a Roma il 27 aprile sabato si terrà un seminario sul suo testo la logica del capitale sarà anche possibile tesserarsi a multi popolare l'associazione degli amici di Ottolina e ci sarà questo seminario online chi vuole può venire ad assistere a Viale Giotto 17 trasmetteremo in diretta insomma l'intervento di Roberto appunto poi sarà possibile tesserarsi saranno presenti alcune personalità della realtà politica romana che poi parleranno anche dell'attualità di Marx e per finire faremo un focus dedicato a Gaza come argomento separato ma che chiaramente su cui noi vogliamo mantenere l'attenzione indipendentemente dagli eventi che organizziamo dalle tematiche ecco cerchiamo sempre di lasciare uno spazio a Gaza ringrazio Roberto e vi ricordo che appunto il 27 aprile a risolvere la Viale Giotto 17 sarà possibile venire ad assistere a un suo seminario dalle 15 e 30 ringrazio tutti quanti gli Ottoliner a cui ricordo di iscriversi al canale anche a quello in lingua inglese dove carichiamo sempre nuovi contenuti mi raccomando seguiteci sui social perché Ottolina TV è la non tv del 99% ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi per sopravvivere ciao e alla prossima arrivederci ciao ciao